Un intero mese dedicato alla grande musica da camera all'interno del Palazzo delle Arti Beltrani nella città di Trani è stato presentato infatti il Festival Debussy, un appuntamento ideato dall'Associazione Auditorium di Castellana Grotte che ha organizzato quattro concerti di grande spessore per celebrare il centenario dalla scomparsa del compositore francese vero e proprio anello di congiunzione tra due secoli passati Debussy è stato uno dei pilastri dei compositori di musica classica a cavallo tra i due secoli quest'anno ricorre il centenario della morte e l'Associazione Auditorium ha pensato di rendere gli omaggio con l'eccellenza dei musicisti pugliesi almeno quindi stiamo lavorando per creare un punto di riferimento della musica pugliese qui a Trani e speriamo di avere dei buoni risultati Si partirà proprio il primo luglio con un pianista pugliese di fama internazionale come Benedetto Lupo punto di riferimento dei pianisti di tutto il mondo I programmi spaziano in tutte le composizioni cameristiche alcune sono affidate a dei giovani, soprattutto i giovani che compongono le prime parti dell'orchestra del Petruzzelli e un concerto pianistico affidato a due allievi di Benedetto Lupo all'Accademia di Santa Cecilia a Roma sono comunque pianisti che hanno già vinto importantissimi concorsi internazionali L'ultimo concerto invece è affidato a grandi musicisti, miei amici che chiuderanno il festival questa prima parte del festival anche con un omaggio a compositori coevi di Debussy con una presentazione di un brano di un autore ungherese che è in prima nazionale qui in Italia Quasi tutto il repertorio pianistico e cameristico del grande autore francese sarà eseguito in questo ciclo che avrà poi però un epilogo in autunno con l'esecuzione delle liriche per voce pianoforte di altri importanti brani pianistici dicevamo però di un intero mese dedicato alla musica da camera ed è proprio in questa ottica che nasce anche Music Summer Campus a cura della Fondazione European Arts Academy Aldo Ciccolini di Trani un campus di alta formazione previsto per 15 giorni da metà luglio e che coinvolgerà circa un centinaio di partecipanti in un primo appuntamento di assoluto livello Nella storia della musica e della formazione l'alto perfezionamento, i corsi estivi dei ragazzi più talentuosi dei conservatori e anche dei licei sono oramai una tradizione consolidata in tutta Europa e in Italia e noi avviamo questo programma per la prima volta qui a Trani e forse tra le prime volte nell'Italia meridionale con l'obiettivo appunto di offrire dei percorsi di alto studio con maestri di rilevanza internazionale a dei ragazzi appunto che vogliano trascorrere le proprie vacanze studiando e perfezionandosi nella musica concertistica da camera e anche con l'orchestra infatti coinvolgeremo un'orchestra giovanile che consentirà appunto a questi solisti di sperimentarsi anche nella musica come solisti e quindi come orchestra